Lo stop della funivia del Gran Sasso per il cambio funi fermerà l'impianto per almeno un anno, queste sono le stime. Allora il PD chiede trasparenza e chiede al Comune quali azioni vuole intraprendere per tutelare i lavoratori del centro turistico, un'azienda già in perdita, ribadendo che loro continuano a chiedere le dimissioni dell'amministratore Pignatelli. In conferenza stampa il segretario Nello Avellani, i consiglieri comunali Stefano Albano e Stefania Pezzopane e il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci hanno spiegato che a giorni convocheranno un'assemblea pubblica con gli operatori, alla quale sarà invitato anche il Comune per coinvolgere la città nel dibattito e per sfruttare la drammatica situazione per arrivare a qualcosa di buono. Noi oggi chiediamo due cose, innanzitutto chiediamo trasparenza, quindi vogliamo sapere quali azioni intenda mettere in campo l'amministrazione per salvare il CTGS e i suoi lavoratori perché erano già due bilanci in negativo, adesso chiuderemo almeno per un anno ma probabilmente per anche mesi in più e non sappiamo a questo punto qual è il capitale sociale, se è stato eroso quello dell'azienda partecipata e sostanzialmente chi gestirà la funivia una volta che ripartirà, se e quando dovesse ripartire. Dal momento che la funivia va chiusa, dal momento che stiamo stanziando dei fondi e che altri ce ne sono in questa occasione che a questo punto diventa in un qualche modo un passaggio storico nella gestione del Gran Sasso noi nei prossimi giorni convocheremo un'assemblea pubblica perché vogliamo dialogare con gli operatori, con i portatori di interesse ma anche con l'amministrazione per ragionare se sia possibile a questo punto pensare ad un altro intervento non la semplice sostituzione delle funi ma una sostituzione completa dell'impianto che possa permettere di portare più persone in quota e quindi superare anche quella difficoltà per cui il CTGS non riesce mai ad arrivare in pareggio perché la funivia è un impianto oramai obsoleto quasi ovunque che può portare in quota solo poche persone. Le misure messe in campo dal comune come la navetta sono mettere le pezze a colori su una situazione drammatica dai numeri l'iniziativa non sembra avere neanche grande successo ad ogni modo sul tema Gran Sasso ci sarà un consiglio comunale straordinario a fine mese ma ci sarà anche una prima commissione per conoscere meglio la situazione economica finanziaria della società partecipata. Grazie a tutti.